Era nell'aria, era chiaro che stava per succedere, la situazione di emergenza in cui versano i reparti degli ospedali in Piemonte è arrivata al limite. Le continue segnalazioni di molti pazienti costretti ad una lunga, esagerata permanenza sulle barelle del pronto soccorso, prima di essere trasferiti nei reparti, ha convinto le forze dell'ordine ad aprire un'indagine particolare anche sui pronto soccorso. I medici e le organizzazioni sindacali che rappresentano il personale sanitario da mesi lanciano l'allarme. Inoltre, come era facile aspettarsi, l'arrivo della stagione fredda ha causato un impennarsi nei casi di influenza che insieme all'aumento dei casi di Covid hanno creato un sovraffollamento ingestibile con pazienti costretti in barella, quello che si chiama boarding, che invece di durare le sei ore previste dal regolamento, dura anche giorni prima di essere trasferiti nei reparti. Per capire fino in fondo che succede negli ospedali, la procura di Torino ha mandato carabinieri e poliziotti a verificare. Nell'indagine entrano le asle e anche il metodo tanto criticato del ricorso, anche molto costoso, alle cooperative per ottenere medici e infermieri retribuiti a gettone. L'inchiesta della procura torinese è nata anche come conseguenza della morte di un paziente lasciato a lungo in attesa di ricovero. L'allarme viene lanciato da mesi e adesso probabilmente la procura della Repubblica di Torino metterà finalmente una luce su questo problema perché i pronto soccorso e i reparti sono sempre più sotto stress per la carenza di personale e le difficoltà in continua crescita per gestire le emergenze.